Buongiorno, siamo all'interno di Compartigianato Alto Milanese con due persone importanti del nostro territorio, il past president Gianfranco Sanavia che salutiamo, buongiorno, e l'incoming president o neopresidente Franco Cordano. A loro chiediamo per l'imminenza delle festività un augurio ai soci, agli iscritti magia a tutto il territorio. Partiamo con Sanavia, prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di porgere gli auguri di queste festività a tutti gli imprenditori, associati e non associati, perché diciamo che c'è bisogno di auguri affiancati anche a quello che è l'impegno, auguri per una buona salute, per le buone festività, l'abbiamo già detto, e anche per intraprendere un nuovo anno con un certo spirito di coraggio e di certezza che tutto si può affrontare, tutto si può gestire, l'importante è non arrendersi mai. Un augurio a tutti gli imprenditori per queste nuove festività. Perfetto, grazie Gianfranco, Sanavia, il neopresidente. Io mi aggancio a quanto ha detto Gianfranco, anche io voglio fare gli auguri a tutto il territorio del Lignanese e speriamo di essere un punto di riferimento importante per il Paese. Gli auguri partono innanzitutto per tutte le persone che lavorano qui in Confartigianato, ma vogliamo allargarlo poi anche, soprattutto, ai nostri soci che hanno bisogno sicuramente di essere sostenuti, ma anche che, come tutti i giorni, si alzano per costruire sempre qualcosa di bello e di positivo e su questo vi auguriamo che l'anno prossimo sia l'anno giusto. Perfetto, noi vi ringraziamo e vi cambiamo anche noi gli auguri. Grazie a tutti. Grazie a voi.